Non hai idea di quante volte in 25 anni di carriera qualche cliente ha bussato alla porta del mio studio dicendomi che aveva perso tutti quanti i dati del suo computer. Naturalmente questo può succedere per una pluralità di motivi. I dati possono andare smarriti perché vengono cancellati accidentalmente, il computer può essere oggetto di furto oppure semplicemente può cadere, si può rompere o può rompersi l'hard disk o ancora peggio di tutto può capitare che un malware, nella fattispecie un ransomware, infetti il computer criptografi tutti quanti i dati e poi chieda un riscatto per farseli restituire. Ogni volta che questo è successo ho sempre chiesto al mio cliente se avesse un backup. La risposta immancabilmente è stata che o non aveva backup oppure che ce l'aveva ma era molto datato. Adesso vedremo insieme come risolvere questo problema in modo da non perdere più i nostri dati. La prima cosa di cui avrai bisogno sarà un hard disk esterno USB. Siccome ne esistono tanti modelli in commercio vedremo tra poco come scegliere quello più adatto alle tue esigenze. Poi avrai bisogno di procurarti un programma gratuito che si chiama Cobian Reflector. Vediamo insieme come fare. Come sempre iniziamo andando ad aprire il nostro browser. Quindi andiamo sul nostro motore di ricerca preferito e scriviamo Cobian Reflector. Il primo risultato è quello che ci interessa. Se il download non dovesse avviarsi automaticamente andiamo a cliccare sul link e attendiamo che il nostro programma venga scaricato. Apriamo il programma e chiudiamo il browser. Accettiamo come sempre le modifiche. Scegliamo la lingua. Clicchiamo su prossimo. Accettiamo il contratto di licenza e clicchiamo ancora su prossimo. A questo punto è importante lasciare le opzioni esattamente come sono. Clicchiamo ancora su prossimo. Accertiamoci di installare il servizio come applicazione e che in basso ci sia il segno di spunta su installa il richiedente della copia shadow del volume. La copia shadow è una cosa molto importante perché ci consente di copiare anche i file che sono aperti sul computer che diversamente bloccherebbero il processo di copia. Clicchiamo su prossimo e infine clicchiamo su installare. Adesso non ci resta che attendere il termine dell'operazione. Alla fine premiamo su fatto e vedremo che in basso a destra sarà stata aggiunta un'icona che è appunto quella del Cobian Reflector. Clicchiamoci due volte. Benissimo. Siamo pronti per fare il nostro primo backup ma prima di fare questa cosa dovremo collegare al computer il nostro hard disk esterno che ci saremo procurati. Vediamo adesso come configurare il nostro primo backup. Per farlo andiamo sul menu attività e scegliamo nuova attività. Diamo un nome alla nostra attività. Ad esempio io la chiamerò backup e assicuriamoci che sia disabilitata la voce crea nuovi backup separati e che sia invece attiva la voce backup incrementale. Scendiamo quindi su file. A questo punto apriamo le nostre risorse del computer e supponiamo di voler salvare tutto quanto quello che è il contenuto del nostro desktop, documenti, tutto quello che abbiamo in immagini e tutto quello che abbiamo in video. Come facciamo? Trasciniamo semplicemente la cartella che vogliamo salvare in alto nella sezione fonte. Fatto questo possiamo andare a stabilire quella che sarà la destinazione del nostro backup cioè dove vogliamo che questi file vengano salvati. Vorremmo che vengano salvati sull'unità esterna che ci siamo procurati cioè l'hard disk esterno usb che abbiamo acquistato. Lo vediamo sempre all'interno delle risorse del computer. In questo caso è la mia unità f che vado a prendere e a trascinare nella cartella destinazione. Fatto questo posso chiudere le risorse del computer e scendere su pianifica. La pianificazione che ti consiglio è quella manuale che è la più scomoda ma è quella che tiene davvero al sicuro tutti quanti i tuoi file perché devi sapere che un virus può accedere a tutto quanto quello a cui puoi accedere tu dal tuo computer. Cosa significa questo? Che se tu lasci il tuo disco esterno usb attaccato per avere una pianificazione automatica dei tuoi backup sicuramente farà tutto da solo il cobian backup salverà i tuoi dati ma il virus avrà la possibilità di accedere al tuo disco esterno e cancellarli o crittografarli. Se invece il disco viene staccato dopo ogni backup è riattaccato quando tu vuoi effettuarlo quindi con l'opzione manuale i tuoi file saranno per sempre al sicuro. Dopo aver cliccato su manuale puoi ignorare le voci successive quindi dynamics archivio filtro eventi ed avanzata. Clicchiamo a questo punto su ok e andiamo ad eseguire il nostro primo backup. Prima di iniziare il backup devi fare molta attenzione a questo numero. Come vedi la mia è una macchina nuova ci sono pochissimi file da backupare quindi la dimensione del mio backup è estremamente ridotta solo 460 mega cioè mezzo giga ma questa dimensione sarà particolarmente importante nella tua macchina e dovrai porvi molta attenzione prima di acquistare il disco esterno da collegare per fare il backup perché avrai bisogno di un disco di dimensioni superiori alle dimensioni indicate in questa sezione qui. Ti lascio in descrizione diversi tipi e modelli di hard disk di diverse dimensioni che potrai acquistare in base a quelle che saranno le tue esigenze. Adesso partiamo con il backup. Ci basta premere il pulsante play cioè esegui le attività selezionate, dare l'ok e attendere il termine del backup. Quello che vedremo saranno due indicatori uno marrone color ruggine e uno di colore blu. Quello blu indica il progresso del salvataggio del singolo file che ti viene indicato qui. Invece l'indicatore color ruggine indica l'avanzamento totale del backup. Benissimo il nostro backup è terminato senza errori. A questo punto possiamo chiudere il programma. Il Cobian resterà sempre attivo nel system tray e potremo lanciarlo di qui ogni volta che vorremo. Prima di staccare il disco e di riporlo in un posto sicuro ricordati di accertarti sempre che ci siano tutti quanti gli ultimi file su cui hai lavorato e che quindi il backup sia andato a buon fine. Inoltre fai periodicamente il backup. Una volta a settimana, una volta al giorno, questo dipende da te ma ricordati soprattutto di farlo quando hai lavorato su molti file oppure hai fatto un singolo lavoro molto grosso che non vuoi rischiare di perdere.